Sulla questione condono edilizio sviluppatasi in seguito al circolare numero 4 del 2015 dell'assessorato regionale territorio ambiente diretto dall'assessore Maurizio Croce abbiamo sentito il parere dell'onorevole Alfio Papale. Onorevole Papale, condono edilizio perché è un argomento oggi particolarmente attuale? Parliamo di condono edilizio, in effetti non è che c'è una riapertura dei termini di condono edilizio ma si fa riferimento sempre alla vecchia legge 326 del condono edilizio che non trovava applicabilità in Sicilia perché non trovava applicabilità? Perché in pratica non essendo stata recepita dalla regione siciliana che ha potere statutario per le proprie competenze, tutti i vari enti preposti alla salvaguardia dei vingoli non intendevano rilasciare parere. Invece con un parere espresso dal CGA nel 2004 si era già espresso la tendenza che potevano essere esaminate le singole pratiche edilizie e sulle singole pratiche si dovevano poi esprimere i vari enti preposti alla tutela del vingolo di inedificabilità relativa. Di fatto è che cosa era successo? Che questo stesso parere i vari enti intendevano darlo ma a coloro che facevano ricorso al CGA. Nel 2014 l'assessorato si era pronunciato dicendo che non c'era bisogno di fare tutti questi causi e tutti questi condensiosi ma il parere che era stato rilasciato dal CGA per una singola pratica doveva essere esteso a tutti coloro che ne avrebbero fatto richiesta e che quindi le pratiche andavano esaminate singolarmente. Poi suppressioni politiche provenienti da varie parti e principalmente dagli ambientalisti questo parere era stato ritirato per cui le pratiche erano rimaste nuovamente in evasi. L'assessore Maurizio Croce assumendosi le proprie responsabilità come è giusto che deve fare un assessore che vuole portare avanti il proprio settore ha chiarito che invece le procedure vanno riattivate e vanno portate avanti. In questo modo si possono sbloccare circa 3.000 pratiche che erano già state presentate ma che erano state accantonate. Quindi non si tratta di un nuovo condono ma si tratta del disbrigo di quelle pratiche che i cittadini avevano presentato e che addirittura si erano loro stessi autodenunciati. In alcune case si sono attivate delle procedure che non hanno fatto altro che penalizzare coloro che avevano inteso sanare la loro situazione, che avevano pagato l'oblazione, che avevano pagato tutta una serie di tributi allo Stato e che di fatto addirittura si erano trovate denunciate per costruzione abusiva. Si possono veramente escludere rischi ambientali con questo condono? Io personalmente ritengo che non ci sono dei casi generalizzati. Secondo me il vingolo per la tutela idrogeologica o boschiva vanno applicati a un territorio ma poi va valutato a caso per caso e questo ha voluto mettere in chiaro la circolare dell'assessore Croce. Le pratiche vanno esaminate, non è detto che perché c'è rischio idrogeologico in una vasta area individuata a scala 1 a 25 mila, poi nel singolo caso ci debba essere. Gli uffici ci sono per andare a fare i sopralloghi, i funzionari si devono assumere le loro responsabilità, devono valutare il rischio di incidenza di eventuali possibili danni che si possono arrecare sia alla singola costruzione ma sia alla collettività derivante dalla costruzione di quel determinato manufatto edilizio e dare il proprio parere. Se così si decongestiona il lavoro a livello degli uffici giudiziari è possibile che si verifichi un intasamento all'interno invece degli uffici che si occupano di edilizia? Ma no, assolutamente. Io secondo me non si fa altro che se la giustizia ai siciliani perché di fatto l'autonomia non fa altro che in certi casi penalizzarci perché i funzionari approfittando del fatto che siamo una regione a statuto autonomo e approfittando del fatto che a volte ci sono dei ritardi nella politica non fanno altro che ritardare e penalizzare tutti gli interessi legittimi dei cittadini siciliani. In questo modo invece si è dato dignità a coloro che hanno presentato le richieste di sanatori equiparandola al resto d'Italia. Io non capisco perché se fino a Reggio Calabria si applicava prima non si dovesse applicare nella regione siciliana.